Dieta vegana inadatta all'essere umano. Ecco, questo è quello che ho sentito dire da la stessa professoressa di cui ti avevo parlato in quel video relativo all'integrazione e sport. Secondo questa professoressa la dieta vegana era inadatta all'essere umano perché incompleta bene. Ecco, in realtà c'è da dire che ci sono diverse inesattezze se non castronerie su questo enunciato. Perché in realtà la dieta vegana da letteratura è un ottimo stile alimentare, tant'è che solitamente chi la segue in maniera, diciamo, appropriata, corretta ovviamente, ha dei valori migliori di colesterolo, di valori pressori, ad esempio si riscontra anche una minore presenza di malattie cardiovascolari e neurodegenerative. Attenzione che non è il solo fatto di seguire una dieta vegana a portare tutti questi benefici, ma in realtà si è visto che comunque di solito chi segue questo stile alimentare in realtà ha anche tutto il resto dello stile di vita molto migliore rispetto a chi non segue questo stile perché ad esempio di solito sono persone più attive, magari che non fumano, quindi devi capire bene quello che ti sto dicendo, ecco. In merito al discorso di dieta incompleta va detto che la carenza che si potrebbe riscontrare facendo le cose anche fatte bene con la dieta vegana è la vitamina B12, anche se comunque si può tranquillamente integrare perché ci sono un sacco di integratori specifici per appunto questo tipo di vitamina, ma va anche detto che non è detto che automaticamente bisogna per forza integrarla perché bisogna sempre fare delle analisi del sangue specifiche per vedere se ce n'è bisogno perché non è detto che ce ne sia anche con una dieta vegana. Concludo dicendo che forse la professoressa in questione dovrebbe leggere qualche libro in materia di nutrizione perché mi sembra che non sia proprio ferratissima.